E ciao a tutti ragazzi, sono Luca Redd e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, dopo l'ufficialità di Vlaovic alla Juve, mi è venuta in mente questa idea di fare, di dirvi 10 calciatori che hanno tradito la Fiorentina per la Juventus. Al numero 10 ci sta Emiliano Moretti. Al numero 9 Valery Bosinov. Numero, poi, Felipe Melo. 7 Quadrado, che però il suo non fu un trasferimento direttamente dalla Fiorentina a la Juve, però dalla Fiorentina andò al Chelsea e poi dal Chelsea andò alla Juve. Poi Giorgio Chiellini, che la Fiorentina ha preso in presidio da Livorno. Tornò a Livorno e poi da Livorno andò alla Juve, dove fece appunto la storia a Juventina. Poi Dulzan Vlaovici, che è la più recente. Federico Chiesa, che in molti pensavano che non facesse come il padre, e invece ha fatto come il padre, però non mi ricordo se poi il padre ha il gioco oppure nella Juve, non me lo ricordo. Poi ci sta Federico, passiamo da un Federico all'altro, perché ci sta Federico Bernardeschi. Numero 2, Cervato, e poi appunto il più famoso è con il divino Roberto Baggio. Quindi ragazzi, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi, lasciate la campanella, e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao ragazzi! Grazie!